Dopo l'acquisizione dall'Agenzia del Demanio della Torre Vito Bianchi, situata alla frazione marina, il comune di Vieti sul mare ora punta la sua attenzione sulla valorizzazione dell'antica struttura. Infatti, dovendo subire la torre stessa opere di restauro e messe in sicurezza per una cifra stimata di circa 150.000 euro e non disponendo attualmente al bilancio del comune della cifra necessaria all'operazione, l'amministrazione retta dal sindaco Giovanni De Simone ha ritenuto di procedere con un bando pubblico per acclarare una proposta operativa organizzativa e di collaborazione da un'associazione con finalità culturali ed ambientali senza fini di lucro, con personalità giuridiche ed un'attività trentennale che si prenderebbe l'impegno della ristrutturazione e della messa in sicurezza del torrione normanno. Tra l'amministrazione comunale e l'associazione proponente si potrà concertare un rapporto di collaborazione che permetterà al comune, oltre all'acquisizione del bene, l'utilizzo per scopi istituzionali della torre, in esclusiva il piano terra ed in comune il primo piano, e dall'associazione interessata l'uso del resto del torrione per gli scopi istituzionali dell'associazione stessa, fermo restando un rapporto di collaborazione continua tra il comune e l'associazione su temi culturali ed ambientali che di volta in volta verranno proposti ed eseguiti.